ciao domani mattina come vi svegliate andate a fare una corsetta rigenerativa tu e Ismaele poi tanto stretching martedì mattina come vi svegliate invece ragazzi finalmente la pizza italiana ecchio panna e salmone raga dopo dopo 90 minuti giuro questo è il premio ecco questo è il premio levia no levia stai zitto stai zitto adesso andiamo a farti un bel risotto alla mamma la metto come è buono buono si è buono 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 va bene sì sì buonissimo buonissimo ci piacerà risotto e asparagi portati dalla campagna eh caro ecco questo si che è mangiare sano allora non è vero è vero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono nella cosiddetta M Eccole, eccole, eccole Oh cavolo, oh cavolo Eccole qua E adesso cosa facciamo? Tutti vogliono me? E sta a posto ragazzi? Oh ce n'era una che stava per saltare Sono venute tutte Il limone naturale No ps come a Londra Stiamo caricando ancora il video ragazzi Guarda qual colore Ma cavolo si sente strafò Mamma mia Giuro Questa vera limone A Londra buttavo giù così Senza nessun problema Ma quando il limone è finto Indolenzito Questa è la cosa che hai qua? E' o lì Questa è la cosa che ho fatto E' la cosa che fa È un paese E' una cosa che c'è E' un paese Sì E' un paese Grazie a tutti.